Buongiorno a tutti, grazie. Io non sono bravo come demo, non sono attore, qui ne ho due a fianco, quindi abbiate pazienza. Allora, vi ringrazio intanto di essere qua, vedo il salone in parecchi e sono anche più di quello che ci aspettavamo e sono molto contento di questo. Demo, io farò un veloce cappello alla spiegazione che poi Enzo vi darà sulle nostre attività, sullo nostro progetto. Quello che abbiamo cercato di mettere in piedi con il salone, con questo nuovo salone Margherita, è un nuovo contenitore per la città, un contenitore di arte, un contenitore di spettacolo, non l'ho detto per primo apposta, perché non vogliamo fare solo il teatro, facciamo arte, facciamo teatro, teatro della risata, teatro, mi auguro, del sorriso, ma sempre con il pensiero, un teatro intelligente. Faremo spettacoli vari, faremo caffè chantan, burlesque, faremo opera lirica. Abbiamo ristrutturato le cucine, questo teatro nasce con le cucine, nasce come caffè chantan, e ne stiamo cercando di riportare alla luce i fasti e anche l'utilizzo. Quindi abbiamo con noi finalmente uno chef stellato che proporrà la sua cucina, inizialmente appena di sopra, poi dopo siete tutti invitati a un buffet alla fine. In questa occasione avrete l'occasione di vedere quello che abbiamo cominciato a fare per riportare alla luce questo aspetto del salone. Io lascerò appunto la parola a Enzo, voglio solo ringraziare prima di tutto quelli che hanno reso possibile il fatto di essere oggi qui. Noi abbiamo rilevato, la mia società, abbiamo rilevato questo teatro ad aprile. solo la ristrutturazione, che non è stata poi così grossa, perché fortunatamente il teatro ha più di cento anni ma non li dimostra, ha impiegato due mesi. Quindi essere qui oggi a presentarvi insieme a Demo e a Enzo, una stagione che considero molto valida, ma soprattutto molto ricca, è un progetto veramente complesso, lo ritengo un miracolo. Sono contento di avere qui una buonissima parte della produzione artistica. Molto grave questa cosa. No, no, scusate. Questo è esattamente quello che vogliamo fare del salone, scusate. Se qualcuno di voi è aperto alla stampa, leggerà un luogo intimo in cui ritrovarsi. L'abbiamo, l'abbiamo, esatto. Te la posso portare subito? Allora, comunque ecco, mi piace questa cosa perché è così, il salone che immaginiamo è così, è un teatro, è uno spazio, è un'offerta artistica di livello, è un sogno. È un sogno mio che io ho cominciato a fare quando, dopo due o tre anni di rapporto di inquilinato, perché con la mia società li produco eventi, produco soprattutto eventi di GQI a Roma, e siamo stati ospiti di questa struttura pazzesca per tre o quattro anni. E dopo questo periodo abbiamo cominciato a pensare, visto che c'era l'idea della passata gestione, di passare la mano dopo quarant'anni di successi, diciamo ho cominciato a pensare alla possibilità di rilevarlo. Alla fine lo abbiamo fatto e ciò che proponiamo oggi ci auguriamo possa riportare questo spazio ad essere uno spazio vissuto. Io sono riuscito a polarizzare intorno a questo, prima il mio amico Demo Mura, che quando ha visto il teatro non gli ho fatto neanche la domanda, ma mi ha detto prima sì e poi ha sentito la domanda. La domanda era faresti la maschera, è così indistinto quasi. E poi Enzo, conoscete tutti Enzo, è un fuoriclasse in tutto quello che fa, in tutto quello che fa e anche in quello che non fa, perché è un fuoriclasse lui, come persona. Insomma, la scommessa è impegnativa, ora Demo ha parlato di qualche litro di sangue, forse è esagerato, forse ne ha perso di più lui con il dentista, ieri. Posso dirlo? Ieri, come si vede che siamo a Roma, il dentista mi ha messo Ponte Milvio e ha otturato con un lucchetto, lo volevo dire, c'è un luogo per Marco Mazzoni che so che sta per andare. C'è un nervo scoperto. I cazzi di tutti sto dicendo, lo dico. Stavo partendo male. Malissimo. Stai per ritogli la tua caldita di uomo. Insomma, l'idea è appunto quella di avere un pubblico quanto abbia il più ampio possibile. Abbiamo fatto di questo spazio uno spazio in cui ascoltare un'opera lì, in cui vedere uno spettacolo di cabaret comico, di burlesque, venire a vedere un'opera d'arte, una esposizione di livello, perché oggi abbiamo la prima esposizione che vedete sulle pareti e avete avuto occasione di passarci attraverso e salendo vedrete il resto. Ma abbiamo artisti che esplorano di un livello pazzesco, pazzesco. Non solo giovani artisti, perché il termine giovane oggi è molto politicamente corretto, ma artisti di talento. Giovani e no, ma di talento. Di benissimo di talento. Così sul palcoscenico, così in sala, maschere di livello, non la c'erano più appunto, e così in cucina, in cui abbiamo veramente voluto dare al massimo, come chef stellato, la dimensione del Café Chantà, ovvero dello spazio in cui passare del tempo di qualità. Venendo in uno spettacolo, ascoltando un concerto, cenando, anche solo cenando per cenare, ma sempre di qualità. Io voglio in primis, per ringraziare Demo ed Enzo, per aver creduto in questo progetto, per essere qui a fianco a me e a illustrarvelo. Voglio ringraziare tutti gli artisti che ne faranno parte, dall'orchestra lirica, agli artisti del burlesque, agli artisti che esplorano, perché ovviamente tutto il cast della stagione teatrale che Enzo ci ha proposto, ci sta per proporre. Vorrei ringraziare i partner, noi abbiamo per ora due partner, ma di tutto a livello, per ora è RDS, vorrei ringraziare RDS, la persona di Massimiliano Montefusco, ma tutta RDS ovviamente, perché ci sosterrà comunicando, comunicando al nostro possibile pubblico quello che stiamo cercando di fare. Io la chiamo la voce del salone, fare una cosa bella, non raccontare a nessuno è un peccato. Siccome non abbiamo un euro di contributo pubblico, comunicare è complicato, costoso, e chiunque ci può aiutare, tutti voi che siete qui, che ci potete aiutare, è bene che se mi hanno voglia lo facciano, per noi è importante. Voglio ringraziare anche l'educante di Due Pagli, sono uno sponsor che è tecnico relativo al wine, un consorzio enorme, in testo d'Italia, più grosso, e con una prunzione di vitimicola di livello, molto molto importante, che hanno subito creduto nel nostro progetto, e siccome noi lavoriamo anche sulla parte ristorativa, ci sembra il caso di ricordarli, ricordare il Presidente Angelo Maci e tutta la struttura. Voglio ringraziare anche un partner che non è qui sul palcoscenico, ma è in giro per la sala da 40 anni, e non li dimostra assolutamente, è Gianni Principessa, è un po' così nascosto, come sempre, ma è un pilastro perché non solo sa fare il suo mestiere, ma sa darti forza, esattamente come De Moenzo, quando magari hai qualche difficoltà in più, quando hai qualche risposta negativa. Però, devo dire che dopo la giornata di oggi, dopo che vi vedo tutti qui, insomma, sarà molto difficile far riscendere l'omore. Sono molto contento e do la parola a Enzo Iarchetti. Grazie a tutti. Io sono stato inchiappettato per l'ennesima volta, mia madre mi ha sempre detto che sei troppo buono, non so se è un pregio o un difetto, ma felicemente ogni volta che c'è una scommessa, mi ci buttano dentro e sto consumando piano piano i soldi che ho guadagnato negli anni precedenti, nel senso che sono riuscito negli anni 90 a metter via qualcosa e poi con tutte queste nuove esperienze c'è sempre tanto entusiasmo a le casse. A parte questo, secondo me la vita, nella vita conta di più l'entusiasmo, sarebbe meglio avere tutte e due le cose, però l'entusiasmo di questa nuova squadra che non è solo rappresentata da questi tre bellissimi omini, ma dietro anche di giovani pronti a lavorare e a rifar partire questo meraviglioso teatro, eccomi qua. Fare una stagione teatrale comporta una responsabilità. A. Perché hai preso certi comici? B. Perché non ne hai presi altri? Allora rispondo subito. Ho preso quelli che mi piacevano e soprattutto quelli che hanno accettato di venire, perché poi, come facevo? A me ne sarebbero piaciuti 100.000, ma gli altri 99.000 non potevano venire. La grande risata è la prima, diciamo, l'ouverture del Salone Margherita che comincerà il 10 dicembre fino al 6 gennaio. Ma io a questo punto mando il microfono da una valletta come potete vedere. grazie per questo uomo che io posso dire essere straordinario. Grazie, grazie signor. Nevio e Enzo mi hanno chiamato e mi hanno offerto di fare di nuovo uno spettacolo per il Salone Margherita. Io ho lasciato questo posto tre anni fa, quattro anni fa, non mi ricordo bene, se era la mia età è un po' difficile. E ho accettato con molto piacere. Faremo uno spettacolo alla nostra maniera, con l'attualità della satira politica e di costume, come si dice, valendoci di alcuni tra gli artisti per me più importanti e più dotati come Mario Zalma, Carlo Frisi, Marto Frello. Questa è il mio vento di cultura che anni fa voleva fare uno spettacolo come me e poi scomparse non ho più visto, ma invece adesso ha messo a giudizio. Speriamo che non sia un male. E Pamela Prati, anzi Renato, è un po' di cultura. E la mia entry è Renato Zè. E Manuela Zero. Ora, poi mi ricordo il ballo, molto ben scelto, me lo dico da solo, però è molto ben scelto. E i miei collaboratori di sempre, cioè il costumista Maurizio Tognalini, i musicisti Piero e Francesco Pintucci e la coreografa Erwin Anac. Non manca praticamente nessuno. In genere siamo riusciti a far ridere la gente e a richiamarla. Speriamo di non rovinarvi. Speriamo sia l'inizio di un buon pienone, sì. Speriamo, speriamo. Grazie a tutti. Dal 7 di gennaio all'11 di gennaio, perché poi noi inizieremo, e ve lo spiegherò più tardi, inizieremo sempre la settimana, il mercoledì. Si sono, il titolo voi, che sono un gruppo di comici napoletani che mi sono piaciuti in particolar modo e che hanno una struttura teatrale, per cui a parte i tormentori che si sentono poi nelle televisioni, nei programmi specializzati del momento, poi bisogna andare a capire se il comico si rete solo su un tormentore oppure se ce la fa a fare un'ora e venti, un'ora e mezza di spettacolo. Ecco, loro, io li ho visti in gomorroide, che faccia molto ridere, si vengono qui invece con Comicazzi, che è uno spettacolo. Oggi provano a Napoli e stasera vanno in diretta, vero Maria? E quindi si scusano per non esserci, ma penso che anche loro porteranno i loro fedelissimi, perché sono molto bravi, sono di tendenza, diciamo. Ecco, dal 14 al 18 gennaio, mi sono permesso di mettere in scena uno sketch di comedy italiano, hanno vinto il premio in comicità Gianni Palladino a Zeliger e sono sette donne insieme, che si chiamano le scemente e rappresentano un show che si intitola Ci vuole un fisico intelligente. Non abbiamo potuto per questioni economiche farle venire tutte e sette e quindi abbiamo una rappresentanza che tra l'altro è vissuta, è cresciuta nei miei spettacoli da ragazzo, lei era una bambina, lei è diventata una bellissima e bravissima attrice, Rossana Carretto ci parla delle altre sei, ma soprattutto dello spettacolo che verrete a fare qua. Buongiorno, rappresento le scemente, dunque il gruppo delle scemente nasce da un laboratorio Zeliger di donne che si chiamava oggi le comiche, un classico laboratorio dove si va a provare i pezzi, si affinano i pezzi di repertorio e dall'idea di un'autrice, Giovanna Donina, abbiamo iniziato nel secondo tempo a fare degli sketch e questa cosa ha funzionato, sono sketch autoconclusivi, nel corso di quest'anno e mezzo ne abbiamo scritti parecchio ed è nato lo spettacolo Ci vuole un fisico intelligente. Le altre scemente oltre me sono Alessandra Ierse, Laura Magni, Cinzia Marseglia, Viviana Porro, Nadia Puma e Alessandra Sarmo. Un applauso perché ce ne sono anche di anziani. No, se veniamo a gennaio è una conquista. Niente, io vi aspetto, noi vi aspettiamo dal 14 al 18 gennaio e ricordatevi una cosa, le donne sono come fiori, appena le metti insieme ti fanno subito un bel mazzo, quindi vi aspettiamo, grazie. Bene, concisi così è perfetto. il maestro è nato un là straordinario. Adesso vi parlo invece di una mia passione particolare, su di loro ho investito e ho investito tutta la mia dignità professionale. Dal 21 gennaio al primo febbraio, siccome io amo molto la musica, se do fastidio posso tornare più ad agio. Do fastidio? Carola, detto stampa che fa la stampa in questo caso. Dai, grazie. Li seguo da tanto tempo, li ho già ingaggiati quest'estate in una rassegna dove ero anche lì direttore artistico, però finalmente hanno capito che avevano a che fare non con un burlone, ma con una persona molto vicina alle cose serie dello spettacolo. Abbiamo gli Oblivion. Gli Oblivion sono un gruppo, credo in Italia siano adesso i più bravi a eseguire musica comica, invenzioni straordinarie. Sono in cinque e anche qui per una ristrettezza economica abbiamo scelto di prendere i due più belli. Gli Oblivion ci presentano dal 21 gennaio al 1 febbraio con uno spettacolo Oblivion.zip Abbiamo qua una testimonianza. Metrofono e ragazzi. Siamo Davide e Fabio, mancano Graziana, Francesca e Lorenzo e assieme siamo gli Oblivion. È la seconda volta che Enzo Iacchetti ci inchiappetta essendo da solo contro cinque, insomma avendo una certa età, ce l'abbiamo fatta anche stavolta, siamo felicissimi di essere qua. Il nostro non sarà uno spettacolo politico, anche se siamo cinque stelle, facciamo un bel movimento, ma non abbiamo brilli per la testa. Facciamo battute fini, comiche, musicali. Insomma siamo cinque giovani, ma in verità siamo cinque vecchi dentro, cinque ancien prodige, insomma fai avanti tu. Sì, caliamo la zippa. Esatto, caliamo la zippa in questo spettacolo. È bellissimo essere qua in un luogo di Caffè Chantan perché affondiamo le radici del Caffè Chantan, ma poi arriviamo fino a Fabri Fibra, nel nostro spettacolo si massacrano musiche di tutti i tipi, tutta la musica italiana viene massacrata e soprattutto noi veniamo massacrati perché la filosofia di questo Oblivion Zip è che il pubblico sceglie il nostro repertorio della serata. Quindi ci saranno botte da orbi sia in platea che sul palco. Quindi Enzo, così, ci siamo chiapettati a vicenda e ti aspettiamo dal 21 gennaio. Ciao! Mi piace. Abbiamo una varietà immensa di... Bene, dopo gli Oblivion abbiamo dato spazio a un caso umano. Chissà chi è, qua adesso non me li metto. No, è un artista bravissimo perché ha avuto un'idea geniale, adesso ve ne parlerà, dal 4 al 22 febbraio e anche questa è una produzione del Salone Margherita. La commedia si intitola One Man Chef One Man Chef e a rappresentarlo con la regia di Alessandro Tresa è Demo Mura. Grazie, grazie. Vedete che mi rifascio il tema da maschera d'attore. Un attimo proprio. Io ho questo spettacolo in versione diversa, in versione ridotta lo vedi in America e era un ristorante teatro dove praticamente su un palco più piccolo di questo c'era uno chef che in realtà era l'attore monologhista ma lo scopriva durante lo spettacolo aveva i camerieri finti, le cameriere finte e all'inizio non capivi perché questi non sono dei professionisti. In realtà era un Elza Poppi come si suol dire cioè è una serie di accadimenti che portano a dei fuoriscena pazzeschi ma portano soprattutto contemporaneamente a ridere e a mangiare. Vedete come si fa? Si fa perché sono dei tempi dei tempi dettati da un finto chef da un metro e quindi il pubblico realmente assiste monologo, canzoni, imitazioni, parodie quasi sempre, più spesso monologo e per poi alzarsi, consumare pietanze e tornare a sedersi. I tempi sono abbastanza difficili da scandire ma è un meccanismo che dopo il primo piatto si comprende quindi è molto molto interessante vedere il pubblico che partecipa, mangia e poi alla fine ha la possibilità di colpire il colpevole che è monologhista con qualsiasi cosa non abbia mangiato dalle forchette e coltelli anche lanciando degli spettatori i più magli. Allora, tendo a dire che questo spettacolo gode in assoluto di due cose il fatto che Enzo ci abbia creduto pure il Nevio non so come chi abbia fatto grazie a tutti ma io non ci credo in realtà no, infatti io volevo capire perché sono stato molto obbligato da Nevio ad accettare sì ma io mi sono salvato facendo lo spettacolo con il maestro Pincitore per cui una volta ho fatto una cosa carina poi l'altra posso pure non fare ah, in Renzi con il Pincitore Pincitore faremo Matteo Renzi Matteo Renzi posso dire una battuta su Renzi? maestro posso dire una battuta su Renzi? puoi fare quello che vuoi? la ringrazio maestro la ringrazio ho detto ieri ha detto io ci metto la faccia al culo pensateci voi allora ho detto a Feroce perché c'era la parola in mezzo un uomo che dice io non ho mai un buco libero speriamo non voglia il nostro allora dicevo torniamo al nostro regista che è Alessandro Tresa che io vorrei ringraziare per aver accettato questa regia che è una regia difficile è una regia che non è solo di di così la pubblicità di recitazione ma è tecnica è una regia di movimenti perché immaginatevi vedere muovere tanti attori che poi non sembrano di grandi attori che sono camerieri finti camerieri finti cuoco venditore di rose dentro l'ho aggiunto oggi quindi la paga adesso paga il più non lo so poi volevo ringraziare il mio coautore Ricardo Russo che è uno dei battutisti più bravi che ho trovato in Italia talmente bravo che mi stanche un po' sulle palle te lo volevo dire perché scrivi troppo bene detto ciò ringrazio Nevio per credere in questa informazione hai sforato di due minuti rispetto agli altri ma va bene così bene un applauso di grazie accoraggiamento sono felice di avere portato qui dal 25 febbraio al primo marzo uno dei comici non solo tra i più amati dal pubblico ma anche da me nel senso umano del termine mio fratellone Giobbe Covatta rappresenterà sei gradi se ce la fa nel senso ad alzarsi ad e a burare ce la faccio ce la faccio io qui sopra così mi posso buongiorno sono stato chiamato qui dalla direzione artistica mi avevano fatto uno scherzo all'inizio mi avevano detto vieni a fare il burlesque che mi hanno già preparato le piastrine da mettere sui capezzoli per fare girare le palline ma insomma poi invece faccio uno spettacolo che si intitola Sei Gradi è un show che a Roma ho già fatto l'anno scorso per cui è una ripresa uno spettacolo è uno spettacolo che narra la storia e quella dell'innalzamento della temperatura del pianeta di 6 gradi per l'appunto per cui nell'arco di 100 anni si arriva ad estinzione umana è insomma uno spettacolo molto divertente e detto questo quando è che ci sono io? Te lo dico in tempo sei dal 25 febbraio al primo marzo 25 febbraio quindi 25 6 7 38 39 30 31 1 8 giorni e febbraio 4 giorni e chi sa che mi ha dato un chissà quanto spazio 4 giorni mi ha dato stiozza e insomma che altro di venite ve la vedete scrivete che è bello che è divertente scrivete tutte le cose più belle che vi vengono in mente e io poi leggo quello che avete scritto e cerco di rispettare la scaletta va bene grazie mi hanno detto i romani che a Roma c'è un comico siciliano che piace moltissimo e che attirerà un sacco di siciliani nel nel salone e quindi nonostante io lo conoscessi la striscia la notizia e nonostante il mio scetticismo nei suoi confronti si è un passo che non me lo chi c'è c'è il comico siciliano no è a meno capelli grave deve essere successo qualcosa non ce lo vogliono dire è che non so sarà successo qualcosa fuori a posto o c'è la macchina da no per la prima sera abbiamo già tutto esaurito e quando sarà 10 ore di dicembre beh è normale c'è il maestro allora per la prima volta in scena al salone Margherita un comico io l'ho visto lavorare è veramente una macchina incredibile e se è vero che a Roma ci sono più siciliani che a Milano sicuramente non ci credo sicuramente avrà un successo straordinario Sasa Salvaggio che rappresenta uno show che si chiama I miei primi vent'anni non di galera visto che vengo dalla Sicilia perché poi sai noi siciliani intanto buongiorno a tutti vediamo l'applauso romano prossimo di te sono contento purtroppo sono stato costretto ad accettare non è che si è stata scena ha detto devi venire al salone Margherita poi con Devo purtroppo sono poeta ma chi va alla sentire sono molto contento dato il mio mestiere diciamo sono rubato al teatro per la televisione porterò lo spettacolo sui miei primi vent'anni diciamo di carriera teatrale parlerò del nord e del sud e soprattutto visto che sono una bandiera siciliana tanto voi sapete che quando a striscia che io facevo l'inviato dalla Sicilia ma lui scoprì che io ero nato a Milano ti ricordi eravamo in Sicilia e perciò mi fecero una satire improvvisamente diventesse sempre il Brambilla che studiava al San Zabros di Milano insomma ha visto ma è vero però mi hanno creato un problema in Sicilia perché la gente mi fermava e mi diceva ma chi è sta cosa che dicono che sei andato a Milano era un'offesa per me siciliani allora voglio spiegare che mio padre era là che poteva fare scendere la Valenza in Sicilia per partorio insomma perciò è chiuto in tutto questo mi piace a me reglamizzare anche una Sicilia un po' diversa da quella che si immagina io a paradico Sicilia voi a chi cosa pensate una parola a casa Sicilia si si ma magari qua sono tutti che mangiano ma di solito tutti a paradico la Sicilia pensano mafia soprattutto quando vai all'estero io racconto sempre la storia di questo siciliano che va a New York ferma l'americano come gli chiede where do you come from il mio è tutto orgoglioso dice I came from Sicily vengo dalla Sicilia e quello where Palermo che appena cedisse Palermo l'americano oh my god da Palermo siete tutti mafiosi no guardi non è come pensa lei siciliani sono brava gente purtroppo è una minoranza no se si ci ci mi ha fatto guardi io non vorrei insistere non mi credo che si ce ne so brava gente no guardi se si ci ci mi ha fatto insomma quando continuava 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 minchia l'ha dovuta ammazzare cioè per dire certe volte però faccio di questa cosa e ci vediamo noi le date sono rile le ricordo le tue date forse è meglio tenerle nascoste esatto bravo comunque chi volesse uccidere salvaggio dal 4 al 6 marzo può fare tra l'altro ci sono pure le ballerine due salute qua sono Maria Celeste San Marco e Viviana Buzzotta vi potete alzare una parte del corpo è rile grazie tanto palermitane ma vivono ma capisci noi ci terrorizziamo anche vabbè ma vi levo con più spazio complimenti per quest'anno grazie a presto ciao ecco ecco quando vi dicevo prima dei comici tormentoni che si vedono in televisione poi li vai a vedere in teatro e dopo il tormentone e nell'altro tormentone poi c'è ancora un tormentone poi basta e quindi lo suo è finito bisogna poi andarli a vedere fuori dalla televisione e Bazz secondo me in arte Bazz ma Bazzoni di cognome Marco ha una particolarità e vorrei dirlo adesso che è giovane perché io ho 62 anni e la gente viene a vedermi in teatro e scopre che canto e mi dice ma che bella voce che hai perché non fai il cantante io canto da quando avevo 9 anni però nessuno l'ha mai saputo ma anche a striscia non è mai stato possibile cantare ho cantato sempre in teatro ma la gente non si è mai accorta Bazz è anche un bravissimo cantante e mischia la sua comicità con la musica ed è per un comico credo una cosa di completezza che non è sempre scontata e verrà più da noi un nuovo spettacolo dal titolo che la dice lunga allora mettiamo le cose in chiare io quest'anno in realtà ero in un anno di fermo biologico perché lo spettacolo la mia scorsa turniera è terminata primavera scorsa sono stato chiamato da Enzo da Demo soprattutto Enzo ha detto guarda c'è da fare questo dobbiamo rilanciare il teatro dobbiamo ricominciare la Salone Margherita non è una questione di soldi ce li metto tutti io quanto vuoi non vuoi sì quanto vuoi non posso venire ho finito lo spettacolo guarda veramente faccio tutto è una questione così etica e morale ho accettato di venire qua il 7 e l'8 marzo con uno spettacolo che si intitola Live in Rome o in Roma se preferiamo dove metterò insieme pezzi del mio repertorio quindi personaggi come Buzz il piantante Gianniciano monologhi musica eccetera più delle anteprime di quello che sarà lo spettacolo del prossimo anno tutto questo dal 7 all'8 marzo l'8 marzo è la festa della donna c'è anche una piccola sorpresa ovvero Demo Mura farà uno spogliarello a fine primo tempo questo credo che sia una cosa che ho pensato io sono intorno all'inizio della carriera è un piacere Marco ti ringrazio poi c'è anche un gioco che faremo con Marco al fine dello spettacolo il gioco si chiede no lo volevo dire perché lui non lo sa il gioco si chiama Fermo Fermo Dai Dai imparino di rientrare scusa che mi esiste ecco imparino di rientrare abbandonare vabbè dal 7 all'8 marzo live in Rome canto ballo recito sono una subnet completa grazie e invece direttamente dal burles dell'Inghilterra mitoriana o quasi è approdato in televisione l'abbiamo visto è burlesca anche a Napoli e però non si chiamava proprio così si chiama caburlesca che è un po' cabaret e un po' burlesca mi ha colpito questa ragazza che ho visto in tv la sua comicità e l'ho cercata e con entusiasmo ha citato le nostre proposte si chiama Maria Bolignano sta andando per la maggiore sono contentissima di essere qui al Salone Margherita perché il caburlesca innanzitutto ringrazio Enzo e noi siamo sentiti molto al telefono sono contenta perché il Salone Margherita è stato sempre un sogno per me perché per chi verrà a vedere il caburlesca è scritto SC apposta perché spesso si pensa che noi uomini siamo ignoranti quindi facevo delle interviste e me lo correggevano è scritto caburlesca SC non caburlesca è un po' cabaret un po' burlesca e questa è la situazione e la location ideale per lo spettacolo perché è uno spettacolo d'atmosfera tant'è vero che noi non facciamo sette persone in scena ci sono io che purtroppo per voi farò del burlesca volte al cabaret e ci sono due mimi bravissimi di Monetta ci sarà il giocoliere sputafuoco c'è uno chansonier che viene da da Scugnizzi che è uno dei più bei musical che ha fatto Martone ci sarà una burlesca particolare perché è una burlesca XXXL è un modo di fare burlesca che si porta molto negli Stati Uniti e io sono contentissima di portare qui questo spettacolo a 360 gradi la cosa bella che inaugurerò qui al Salone Margherita io ho avuto la possibilità di incontrare quest'anno al Napoli Cabaret Festival un grande artista mi ha detto di non svelare il nome se non durante lo spettacolo sul manifesto ci sarà scritto effetti speciali Robert Ricciato se fate l'anagramma capirete chi è è uno degli artisti secondo me più grandi che abbiamo in Italia e nel mondo e mi ha regalato un'idea si è innamorato del Capurlesque e mi ha regalato un'idea da fare all'interno lo spettacolo io la farò direttamente qui al Salone Margherita e riveleremo chi è questo grande artista che probabilmente mi fare il regalo anche di venire vi invito qui dall'11 al 15 uno spettacolo divertente ovviamente perché a Napoli si dice acquaio l'acqua è fresca c'è chi vende l'acqua ovviamente dice che è fresca ma anche perché è una satira anche sulla femminilità cioè sul fatto che non c'è bisogno di essere fighe non c'è bisogno di essere giovanissime per poter fare burlesque per poter essere erotiche divertendo e divertendosi grazie sono stata troppo sedia lo so grazie grazie Maria grazie davvero sei stata carinissima ad accettare vedete che cerchiamo di spaziare un po' era un po' che è il nostro intento questo di Sardegna Sicilia unire un po' l'Italia a Roma nel senso della comicità e quindi mancava un milanese mancava un milanese che da parecchio tempo sta avendo successo con uno show un quartetto ma a volte anche con un'orchestra di 40 elementi ma che abbiamo provato a metterli qua non ci stanno che fa un omaggio a Giorgio Gabber che ormai è l'ultimo che resiste da quando il grande Gabber è scomparso molti omaggi sono stati fatti a Gabber in tante salse molti cantanti anche importanti hanno omaggiato il problema era poi il resistere questo spettacolo è molto richiesto in tutta Italia e viene anche a Roma e questo giovane milanese che si porta un quartetto di ex musicisti rock che ora sono un po' anziani ma un po' come Jesus Christ superstar Ted ancora canta Ted Neil ma c'ha 70 anni ecco anche questi musicisti che hanno suonato con De André con Paolo Conte con Erra si sono un po' incirati e hanno formato il quartetto con questo giovane frontman c'è sto ragazzo che verrà dal 18 al 29 marzo con uno spettacolo che si intitola chiedo scusa al signor Gaber ora questo ragazzo siccome da direttore artistico non prende una lira ha pensato di provo a fare 15 giorni per vedere se mi pago le spese e sono io sono io dal 18 al 29 marzo uno show dove tutte le canzoni del Paolo Giorgio sono state rovinate cancellate gli oblivion più o meno questa tecnica la capiscono perché prendi gli spartiti musicali gli spezzi li butti per aria e poi dopo li ricomponi e canti quello che viene fuori a questo punto è un omaggio diventa se sei un po' di perizia un omaggio originale questo farò ma non disturberò più di tanto dall'8 al 12 aprile invece e con grande soddisfazione sono riuscito a ricomporre una coppia storica del cabaret italiano una coppia che ha cominciato con me 40 anni fa circa con uno spettacolo dal titolo basta non so se è perché è l'ultimo no no è con lo stefano è perché è l'ultimo che farete va bene Paolo Antoni e Sarcinelli saranno qui con con questo prego hai studiato hai studiato la signorina la signorina tra l'altro tutta gente ricoglione ti ha portato la tesina su mio pari se va fuori ma Paolo Antoni c'è verrà è vivo lo spettacolo vivo il tuo socio Paolo Antoni si lo spettacolo tutto bene lo spettacolo si sono le nuove droghe che girano le danno al mattino si titola basta basta come dire molto divertente c'è Francesco Paolo Antoni che fa un numero fa molto ridere esce con dei musicisti con dei musicisti poi Francesco fa questa cosa che si travesse da senza musicisti poi Francesco esce e fa una cosa che fa ridere poi si cambia poi riesce fa un'altra cosa che fa molto ridere poi si esce e basta poi si è un istitario poi la gente prende la coca cuola poi si riapre no si apre il sipario Francesco fa una cosa che fa molto ridere poi si chiude il sipario si fa finta che si esce e si riapre il sipario e si fa un bis un bis l'alloggio non ci credo ancora però insomma l'abbiamo segnato vuoi stare qui con noi? finita? si si dal 15 al 19 aprile Leonardo Manera in segnali di vita Leonardo è uno dei comici più amati per la sua tristezza la sua drammatica drammatico porsi nei fatti quotidiani però poi questa drammaticità esplode sempre in un surrealismo comico straordinario non è qui con noi oggi ma vi saluta una cosa bella che mi fa piacere che Nevio abbia accettato e te l'avevo già te l'avevo un po' consigliata all'inizio delle nostre chiacchiere è che il salone deve diventare anche una formazione per dei giovani talenti delle nuove proposte quindi in occasione e insieme a dall'incontro che abbiamo avuto con BJ Academy che è una scuola di teatro vogliamo anche noi trasformare questo teatro in uno spazio di studio per giovani talenti quindi faremo corsi di recitazione edizione regia il palco insomma diventerà una cornice di livello per esplorare tutti i percorsi artistici ed emozionali quindi ci sarà anche una scuola di teatro ora l'ultima cosa ce ne parla ce ne parla non ce l'ho scritto ah si ce l'ho scritto ce ne parla Marco Minelli Marco la BJ Academy nasce da un concetto più ampio che è una factory dove abbiamo voluto necessariamente studiare la possibilità di formare coloro che vogliono specializzarsi nel mondo della radio e della televisione ma soprattutto del new media io ho lavorato fortunatamente 21 anni in direzione di network nazionali e a tre tanti docenti specializzati della televisione tradizionale e poi l'incontro con internet l'incontro della nuova cross-medialità e a quello che punta la nostra formazione quindi questo teatro stipendo sarà anche naturalmente teatro di tante lezioni sulla nuova comunicazione sui nuovi media e sul teatro grazie anche a un'innovazione quella un po' rubata dagli Stati Uniti che è lo step-up comedian che realizzerà il nostro demo Mura vi ringrazio è questo un errore che ho messo prima è stato quello di non far parlare Diana Alessandrini su Art of Stage Diana ci sei? qua Diana ecco a proposito delle mostre eccetera eccetera vuoi aggiungere qualcosa? eh ma tanto adesso però mi prendo anche altri minuti perché vi so ah va bene va bene sto scherzando solo una cosa per dirvi che è un luogo d'arte e cultura questo splendido Salone Margherita che è Liberty 1898 1908 ma se graziate lo sguardo a queste vetrate magnifiche a questi stucchi vi ne potete rendere conto questa bellissima idea di nevio scalone che ha avuto appunto di portare l'arte l'arte contemporanea che si sposa benissimo in questi spazi facciamo un restauro filologico di questi luoghi davanti a tutto ciò che nel tempo si è sovrapposto e che poco c'entrava quindi trovate cornici a stucco che sono come dire quelle vere dell'epoca dentro mettiamo l'arte la grande arte come di Antonio De Pietro che ci appunto fa questo grande onore di inaugurare con noi il 20 novembre vi do appuntamento al 20 novembre alle 17 questa stagione artistica e poi insieme ad Antonio De Pietro altri artisti ringrazio Mauro Reggio che ha voluto essere con noi quest'oggi ma anche Marta Cioc e con loro Luca Giovagnoli Giuliano Marin e Fularenza Troisi sono soltanto alcuni di questi nomi ci sono molti altri maestri di grande nome di grande importanza come quelli che già ho citato e quindi speriamo di farvi vivere altre emozioni come quelle bellissime che vi stanno proponendo dal palco questi artisti a tutto grazie ecco come ultima cosa noi vogliamo assaggiare le prelibatezze le so che siete venuti soprattutto per mangiare come ultima cosa volevo segnalarvi che come in ogni caffè chantant teatro come questo un po' lo ricordo no? una cosa importante è anche la cucina noi abbiamo a disposizione abbiamo avuto tramite le conoscenze di Nevio uno chef stellato vuol dire che se è uno chef stellato non fa da mangiare le uova sode con le tese ma sei stellato lo chef stellato l'abbiamo fatto venire dal ristorante Il Capriccio di Vieste e cucinerà per noi Leonardo Vesce Salve buongiorno a tutti voi sono Leonardo Vesce da Vieste punta del Gargano e diciamo che un po' la mia formazione mi porta ad aver girato prima Italia dalla Sicilia Sardegna Toscana Lazio Campania quindi un po' toccando tutte le regioni e poi tantissimo estero dalla Russia all'America Svizzera Inghilterra Francia Portogallo questo per cercare un po' di avere una grande cultura anche se ho un'età di 37 anni sono 25 anni che sono in cucina e ho sempre creduto in questo lavoro poi un po' quest'estate con l'incontro con Nevio presso il mio ristorante e con l'amicizia di Gianni Principessa avendo lavorato per lui a Porto Cerro è nato questo bellissimo progetto ora l'idea qual era? la domanda era più che altro cosa cucinare in questo bellissimo teatro e secondo me come deve essere un'esperienza il teatro deve essere anche un'esperienza la cucina quali piatti fare era un po' il punto di domanda alla fine sempre con Nevio siamo arrivati a creare un'esperienza anche culinaria arte si parlava prima di arte culinaria si può parlare adesso quindi ci sarà dietro un grande lavoro di cultura più che altro e l'obiettivo è quello di far vivere un'esperienza di teatro quindi man mano che cambieranno gli spettacoli ogni settimana cercheremo di abbinare la nostra cucina esempio se toccheremo vari personaggi dalla Sicilia alla Campania alla Toscana cercheremo di a Milano cercheremo di abbinare i piatti così l'ospite potrà vivere anche in maniera sensoriale quello che è l'esperienza e il messo logico tra arte culinaria e arte terrale infine toccheremo anche per quanto riguarda la musica classica perché no far rivivere quelli che erano i piatti un po' dell'epoca dal rinascimento a quant'altro oppure il burlese quindi le mie belle esperienze fatte un po' in Francia essendo stato lo chef dell'ambasciata italiana a Parigi oppure quando ero in Inghilterra avendo cucinato al Mosimans Club che era ed è il club ufficiale della famiglia reale inglese quindi eravamo noi gli addetti quando c'erano i banchetti ufficiali eravamo noi che ci spostavamo nelle varie sedi per preparare questi grandi banchetti quindi anche Francia burlesco unire ciò che sono i piatti classici della cucina francese infine Roma perché stellato perché l'ultima esperienza la fece a Roma qui all'Aldrovanti Palace prendiamo la stella in un anno record e le mie esperienze sono quindi anche in posti stellati dalle tre stelle a una stella che per chi non conosce è il massimo punteggio per i grandi puntori della guida Michelin in questo caso io vi ringrazio e credo che sarà una bellissima esperienza grazie a tutti allora io come direzione artistica ho finito il mio lavoro per il momento è chiaro che durante gli spettacoli non ci sarà la cena la cena sarà prima e quindi lo show sarà salvaguardato da ogni tipo di rumore di forchette eccetera eccetera e niente vi ringrazio parlatene bene scrivete più che potete grazie ai miei colleghi che sono venuti e che magari dovevano fare delle cose importanti ma noi faremo di tutto per fare in modo che siate tutti contenti da qua ecco e speriamo che l'anno prossimo ci sia una concorrenza così sleale da coltellarsi tra di noi per avere uno spazio al Salone Margherita Nebio toccate chiudere e poi andiamo a salire applausi mi sembra chiaro che in questo teatro si ride questo è una diciamo è il dato di fatto di oggi ma siccome oltre a ridere si mangia vi aspettiamo tutti di sopra per un buffet dove tra l'altro potrete anche avere l'occasione di continuare e visitare l'esposizione di Antonio Leppietro grazie a tutti applausi grazie